eccoci qui buongiorno e buon pomeriggio a tutti ecco qua, vediamo chi si collega con noi oggi è un giorno speciale sia nella chiesa cattolica in quanto è il santo San Giuseppe molto molto venerato da tutte le parti ciao Giuliana Rinaldi, buongiorno e inoltre c'è anche un'altra festività laica che è quella della festa del papà e inoltre da un po' di tempo a questa parte si è decisi di ricordare quel prete che è stato ucciso dalla gamurra perché? Perché diceva una verità scomoda buon pomeriggio Cinzia Graziano buon pomeriggio Anna Angeloni a Daniela Persico a Nadia Firamanti quindi è una giornata bella piena di avvenimenti speciali che ci danno quindi la possibilità di capire e parlare di tante tante cose buongiorno Eugenia Barusco buongiorno Anna Frezzi Lombardi mi sto accorgendo adesso dico una cosa che riguarda personalmente a me che questi occhiali mi stanno dando brutti scherzi si si vede che c'è bisogno di cambiarli mi si abbaglia un po' il guardare scusate per avvicinare rischio di fare andare tutto giù buongiorno Cristina Zerbone un abbraccio al tuo papà si un abbraccio grandissimo per il tuo papà buongiorno Babba Di Meco un pomeriggio anzi un abbraccio si per tutti si allora io stavo dicendo che buongiorno Fulvia Erika buongiorno anche a te Maria Romano benvenuta Stefania delle Piane allora stavo dicendo questo e quindi è un giovedì speciale un giovedì dove chi per un verso e chi per un altro ha dentro di sé nel proprio cuore la voglia e la speranza di salutare i propri cari che sono dall'altra parte diciamo così che poi non c'è nessun'altra parte ma sono sempre qui accanto a noi io devo devo dire anche due parole riguardo a tutto quello che sta succedendo su Facebook Facebook è un bellissimo luogo d'incontro ed è molto utile ed è anche un luogo dove ci si può scambiare le proprie idee le proprie opinioni sempre nel rispetto delle opinioni altrui e delle idee altrui ma quello che vedo è che proprio in occasione di queste vicissitudini di questi ultimi tempi stanno sorgendo molti opinionisti e tutti questi opinionisti ognuno dice il contrario dell'altro non lo so se perché sanno in buona fede se perché hanno bisogno di sfogarsi o di togliersi le loro paure questo non lo so non voglio neanche giudicare non voglio neanche pensare lontanamente anche perché io ho sempre grande fiducia in tutte le persone ma devo anche pensare che molto spesso in alcuni argomenti dove noi possiamo in certo qual modo far cadere le persone in errore oppure in grandi dubbi oppure invece di aiutare far sentire lo sgomento io penso che dovremmo stare lì a pensarci due volte il silenzio alcune volte è la cosa migliore da adottare perché perché è pur vero che ci siamo ritrovati in una situazione in cui non eravamo preparati nessuno di noi neanche i nostri politici neanche i nostri medici neanche gli scienziati va bene e se qualcuno già aveva sudorato ho capito qualcosa prima che accadesse tutto questo io penso che ora dovrebbe stare in silenzio perché per parlare avrebbe dovuto parlare molto prima anche mettendosi contro le autorità e anche se le autorità hanno cercato di zittire ci sono state persone come la filosofa Apazio che è morta per questo per dire la verità quindi non bisogna sobbillare le persone i sobbillatori ci sono stati anche quando ci fu la peste a Milano ma non servirono a nulla perché comunque la peste fece tanti morti e bisogna rispettare questi morti di qualsiasi morte essi siano se per morte perché già erano ammalati e il coronavirus ha prodotto altri danni sia persone che non erano ammalate e comunque sono morte bisogna rispettare il dolore di queste persone questo è quello che io voglio dire in tutta franchezza poi un domani quando sarà tutto finito allora si potranno fare tutte le ipotesi e trovare tutte le giustificazioni e trovare tutte le soluzioni ma per il cambiamento di tutti per il bene di tutti di tutta l'umanità non per puntare il dito l'uno contro l'altro questo in questo momento non ci serve per niente questo volevo dire e proprio a onor del vero vi volevo leggere questo ora come ora bisogna creare nei cuori le basi per un nuovo credo che ha come unico scopo di unificare tutte le persone di essere capaci di vivere per vivere di affrontare la morte senza paura di vincere gli ostacoli sapendo che tutto è possibile se si agisce per il bene di tutti insomma cercare di portare più persone con coscienza viva verso una realtà dove si possa essere parte attive di un mondo fatto per creare e non per distruggere penso che su questo siamo tutti quanti d'accordo era questo l'argomento principale che io volevo mettere in in tavola perché perché è una mia coscienza non dare un sfogo a un mio sentimento ma è una mia coscienza perché mi ci sono trovata anche io a non capirci più nulla a sentirmi spaesata a sentirmi a non capire nulla allora se questa nube nera che ci sta strovastando tutti quanti noi la buchiamo un poco portando parole di conforto di aiuto e di speranza ecco che questa nube nera mano mano si dissolverà ma se noi cominciamo invece a pensare io quello noi voi essi cioè sempre con la divisione e non con l'appartenenza e allora distruggiamo e non creiamo vogliamo criticare i politici vogliamo criticare la sanità non è questo il momento non perché io li voglio scusare ma perché adesso non è il momento di fare guerra adesso è un momento di creare onde di pace e di amore babba bellissimo è vero è ragione su tutto io non ho ragione su tutto questo è un mio sentire che voi potete anche non condividere io non sono un dittatore che sto qui ho sentito e ho visto alcuni commenti di alcune persone che siccome non si deve uscire di casa siccome si deve fare attenzione loro si sentono come in una dittatura io non so quale sia il loro sentimento e quale sia la loro natura ciao Nicoletta e del perché hanno questa sensazione io personalmente mi sento in pace con me stessa mi sento serena mi sento che in questo momento devo fare la mia parte non ha importanza se non posso uscire di casa non ha importanza se non vado a fare una birra insieme agli amici è importante che noi ci sentiamo uniti per poter essere un nuovo uomo una nuova donna una nuova generazione di esseri che vivono nell'armonia e nella pace sì Cinzia abbiamo bisogno di stare uniti e abbiamo bisogno di amore questo è quello che stanno continuando a dire nei messaggi Maria Romano non siamo in un'età dura ci siamo tutti aiutando con amore per noi stessi e per gli altri e per la salute di noi stessi e di tutti sì io anche se in questo momento ci stanno privando di una certa libertà però noi possiamo essere liberi interiormente la libertà e viene dall'interno di noi non dal perché io posso o non posso uscire Daniela Persico infatti dobbiamo essere uniti nell'amore e non nella dittatura siamo tutti uguali sì Maura Conte siamo tutti uguali Maria Rosaria Papale ciao anche a te un saluto io non ho detto un qualcosa di chissà che io sostanzialmente dicendo che nel momento in cui noi abbiamo deciso di poterci aiutare l'un l'altro perché io se non esco non esco non solo per il mio bene ma non esco neppure per il bene dell'altro allora se come molti dicono che questa non è una vera una vera epidemia che non è una vera malattia che è un'influenza normale che ci stanno dicendo delle notizie false di questi morti allora io vorrei da voi da voi che state vivendo questo momento e che specialmente alcune di voi che stanno nel nord a Milano o dove state cosa è per voi questo momento state state appurando se è vero tutto quello che si dice per televisione perché queste mettere in dubbio allora non lo sappiamo che la televisione è manovrata e non dice al cento per cento tutta la verità ma un cinquanta per cento ci deve pure essere altrimenti sarebbe una cosa orrenda e neanche quando c'è stato Mussolini o quando ci stanno i nazisti siamo arrivati a questo punto di ottenebrare le menti di tutti allora Daniela Persico dice infatti ci sono notizie discordanti e questo genera confusione secondo me non vogliono fare errori per non metterci la faccia allora danno notizie non danno notizie certe sì ma non è questione Daniela della televisione o di chi è al potere a non dare queste notizie loro danno le notizie che possono dare o che vogliono dare ma quelle che portano confusione sono queste persone che su facebook ogni giorno dicono il loro parere come se fossero dei santoni come se fossero i detentori di una verità assoluta ma noi sappiamo bene che la verità assoluta non c'è mai uno può tenere la sua verità come io posso tenere la mia verità perché ognuno di noi siamo un mondo a sé stante con le nostre convinzioni con le nostre paure con i nostri desideri quindi io non posso permettermi di dire io sto dicendo una cosa vera io posso dire questo è quello che io percepisco sì Maria Rosaria Maria Romano c'è la voglia di creare e non distruggere per noi ma io vedo che non tutti hanno questa voglia di creare io vedo che molti forse in buona fede forse volendoci mettere sulle difensive questo non lo so però io sto dicendo stiamo attenti perché in questo modo qua si crea solo confusione mentale delle persone e quindi dalla confusione mentale nasce il disagio la paura e quindi la diffidenza sì Cinzia abbiamo bisogno di stare uniti nell'amore questo è vero però abbiamo bisogno anche di sentirci sereni Mariano ma non siamo in età dura ci stiamo tutti aiutando con amore per noi stessi per gli altri e per la salute di noi stessi e di tutti sì infatti dobbiamo essere uniti nell'amore e non nella dittatura sì va bene Giuseppe Ariol ciao un abbraccio brava devi essere serena come si deve essere serena sì io mi sento serena però ti torno a ripetere quando per puro caso vado a spulciare le varie notizie su facebook a un certo punto ci si imbatte in delle cose che parlano anche degli scienziati dei dottori e allora tu dici ma qual è la verità Anna Maria di Belle sono sola da 30 anni sì Anna Maria pure io sono sola questo non c'entra nell'argomento non ho capito che cosa vuoi dire certo siamo liberi anche stando chiusi dentro casa la libertà è sempre dentro di noi sì la libertà diceva un cantante dei miei tempi scusate che non mi viene il nome la libertà non è stare sopra un albero Maria Rosaria Papale ciao carissima Adele ciao anche a te Cinzia comunque lo dicono per il nostro bene chi dice che cosa dicono per il nostro bene Cinzia a chi ti riferisci non ho capito io volevo una vostra testimonianza dai luoghi dove maggiormente ci stanno questi focolani come dicono e quello delle altre persone anche le persone vicine a noi io Zona Malpensa Cinzia Zona Malpensa allora dici che cosa senti tu intorno a te cioè bravo essere liberi interiormente Daniela Persico infatti le notizie non sono tutte vere molte cose non dicono è pilotata la notizia dal governo Daniela Persico e questo l'abbiamo stabilito però io sto dicendo anche se la notizia è pilotata dal governo non dobbiamo puntare il dito contro il governo perché in questo momento non ci serve non serve a portare serenità nei cuori delle persone noi siamo qui siamo uniti da questi ponti di luce e quindi abbiamo modo di scambiarci le nostre opinioni abbiamo Giulia Rinaldi dice secondo me il ministro che non dice la verità sì ma per te Giulia Rinaldi qual è la verità non puoi dire non dice la verità per dire non dice la verità tu devi sapere un'altra verità altrimenti è inutile che tu metti giù questa tua opinione cioè la tua verità deve essere una verità che è ben vera non una tua verità io vedo come Maria Romano io vedo come un momento positivo per me stessa e per la cosa ci si può aiutare su noi stessi e sul gruppo sul rapporto con gli altri di fare apprezzare di più le piccole cose sì è vero Maria Romano questo è in effetti forse quello che ci è stato donato da questo momento particolare Cinzia Graziano dice forza a Cinzia Finotti Adele qui sono a casa si è esso solo per spesa e visite importanti ho capito Cinzia ma per quanto riguarda hai qualcuno che tu conosci che tu sappia bene che ci sono delle mortalità oppure ci vogliono mettere paura come tutti quanti stanno facendo credere per farci stare chiusi in casa per chissà quale progetto nascosto daniela persico io prendo con le pinze tu quello che leggo cerco di non perdere la lucità bravissima daniela sei una persona bellissima e tu in questo momento mi stai incoraggiando a credere sempre di più nel sentire personale sei una grandissima persona e sei di aiuto a tutti e quello daniela e quello che io volevo dire questo per noi è bello qui in questo gruppo perché qui ci sono molti che vengono a parlare e quindi ci spiegano in tutta verità e onestà quello che loro pensano e ce lo dicono ma immaginate chi non è non appartiene a questo nostro gruppo allora io questo volevo lanciare come idea noi che in questo momento facciamo parte di questo gruppo che sta allargando sempre di più però cerchiamo anche noi poi a nostra volta di essere portatori di quello che viene qui discusso di quello che viene messo qui in tavola sempre con le dovute cautele sempre con discernimento sempre quello che a voi sembra giusto diffondere così noi saremo dei semi per altre persone altrimenti diventa un qualcosa di arido che resta qui chiuso anche se siamo in 500 2000 3000 però non siamo tutta l'Italia ed ecco che io ho questa sensazione che da qui deve partire come delle fiammelle che vanno dappertutto cinzia graziani infatti adè la paura spesso ci gira brutti scherzi sì più che la paura è il dubbio l'incertezza che poi ti fa cadere nella paura Lidia Tao oggi ho sentito una cara amica che vive a Bergo che mi ha detto che sente continuamente ambulanze che l'atmosfera è terribile ecco qui ora questa è una testimonianza di persone che stanno sul posto non credo che si mettono ad andare avanti e indietro queste ambulanze per puro piacere di spaventare le persone di Bergamo io mi auguro di no ecco che vedete come tutto va bene noi come ci aiutiamo babba di me Adele io ho scurato tanta gente continuano a farlo leggere costantemente ho visto che mi fa male creano paura e ci dividono con le loro idee sì però anche io l'ho fatto a un certo punto perché non ne potevo più e ho tolto di mezzo perché ho detto Adele questo non ti fa bene perché ancora non riesci a fare discernimento perché specialmente quando hai fiducia in determinate persone ti riesce difficile fare un discernimento è come uno che sa che l'altro non può far del male e quindi si abbandona a quella persona lì ecco che poi ci si accorge che tutti sono deboli e che pure io sono debole ed è questo un metro anche per conoscere me stessa Maria Rosalia Papale condivido in pieno quello che stai dicendo anche io faccio il mio dovere consenità e penso che sia o sobbrico morale far nascere buoni frutti anche da questo difficilissimo momento sì Maria Rosalia ed è importante che noi come quando Gesù Cristo il Cristo disse ai suoi apostoli andate in giro e ripetete quello che io vi ho detto un po' questi ponti di luce è come se fosse un'entità fatta da tanti di noi siamo un unico corpo e quindi quest'unico corpo fatto di tanti di noi si può propagare dovunque per portare la bella notizia che nulla è finito e tutto rinasce a nuova vita Vania Benetti io cerco di guardare sempre i minuti G e tutto ciò che parla del sono a casa sento tranquillo e credo anzi spero che tutto ciò faccia riflettere tutti sì Vania esiste Anna Maria De Bellis Gaber brava ed è ed è una bellissima canzone molto bella molto significativa Cinzia Graziano la zia di un mio carissimo amico di Cremone è morta di covid-19 e la cugina è positiva quindi non so cosa sia questo covid-19 se sia come un'influenza o non lo sia come un'influenza perché io non sono un medico non sono scienziata non posso giudicare però i fatti mi dicono che molte persone muoiono e quindi se molte persone muoiono c'è bisogno di fare attenzione per non diffondere e poi non mi piace non so perché io sono vecchia ma non mi piace sottovalutare la morte delle persone anziane perché già erano ammalate perché già avevano il diabete perché già avevano i bronchi malati questo non ha importanza sono persone che si sono sacrificate per noi per farci accorgere che dobbiamo mettere senno un buon giudizio grazie adele severa e pura dacci sempre la forza io spero di poter essere forte tanto da continuare a non perdermi nei menandri delle mie fantasie daniele persico ciao carmen di napoli daniele persico nel mio piccolo incoraggio chi conosco non avere paura di essere centrati nel pensiero positivo brava daniele così che si deve fare giuliana rinaldi allora tutti quei morti si sono uccisi da solo perché dice che sono tre sono morti di corona chi sta prendendo in giro veramente giuliana rinaldi non ha detto che sono tre che sono morti di coronavirus no io non l'ho sentito questo dalla sanità no esattamente neanche dalla protezione civile non ho sentito che sono tre morti sono altre persone che stanno sminuendo l'accaduto perché dicono che ci vogliono far mettere paura per non farci uscire di casa Nadia Ferramanti io stesso ho condiviso articoli in cui si mette in dubbio ciò che dicono ed il motivo è quello di far ragionare riflettere con la propria testa e non dare per oro colato ciò che dicono sì tu pensi che queste notizie che ci vengono sott'occhio sia proprio mettere alla prova la nostra fede e la nostra speranza in noi stessi è vero Nadia bellissimo bellissimo esempio che hai dato mi hai dato una bellissima lezione te ne ringrazio tanto Vera ciao Vera di Rosa Carmela di Napoli beato voi siamo arrivati a 20 contagi è un deceduto ma data la grande popolazione densità di territorio è quasi nulla sì può essere io comunque non vedo quasi nulla comunque c'è un qualcosa che sta ancora in atto io sinceramente non esco a molto tempo ma mio marito che lavora in un supermercato facevano fatica a stare dietro agli scaffali vuoti ora non c'è lavoro nel senso che le persone non comino più nulla ed è vero non si sentono ed abbiamo la forza dell'ordine in ogni uscita dei paesi che multe se non hai una giustificazione valida Cinzia ho capito quello che dici e mi dispiace tantissimo mi dispiace per te e per tuo marito che state vivendo questo momento così pesante però io sono certa che la vostra forza il vostro amore la vostra unione è talmente tanta che lo supererete alla grande Francesca io sento ogni giorno i miei al nord e mi dicono che c'è una trasfera sulle ali che le strade sono vuote la gente è impaurita dal contagio esce stretto indispensabile ma concordo anche con loro che la cosa che fa più paura sono le tante notizie che si leggono non sempre vere che mettono confusione e ancora più paura nessuno dovrebbe mettere in fondo delle cose dandole per certe se non si hanno certezze in mezzo soprattutto nel momento del genere in cui la situazione è critica e la gente è portata a credere tutto proprio per paura sì Francesca io però e non solo ci sta chi sta appesantendo con negatività questo ma ci sta anche che chi in buona fede anche a livello di persone che sono ben ferrate nell'argomento e quindi tu ci credi perché se ti parla un medico o un ricercatore tu metti in cominci a dire ma allora come sta la situazione se questo COD 19 come si chiama era già conosciuto oppure non ci permettono non ci hanno permesso di fare delle ricerche e quindi ecco che ci troviamo in questa situazione però state attenti quello che vi dicono non è vero perché è un una un'influenza e quindi la si può superare le morti che stanno morendo sono delle persone che erano già malate il restante ce la fa si salva sono notizie belle confortanti in un certo senso ma sono anche notizie che ti danno un senso di dubbio e quindi ti mettono in una certa agitazione allora se questo Cov 19 lo si già conosceva va bene e allora come mai non c'è il modo di distruggerlo e come mai le autorità non hanno dato modo affinché non si diffondesse cioè queste notizie dette in questo modo qua ti fanno capire che non c'è nulla di preciso e nulla che ti possa dire che tu possa dire è così allora chi instilla dei dubbi fa bene o fa male secondo voi per me a me ha fatto male ha fatto molto male ma non perché mi ha tolto la serenità no perché io la conservo ma mi ha fatto male perché ho pensato che nessuno ha il diritto di dire certe cose quando sta in atto un problema per me io giudizio io lo debbo dire prima che avvenga il problema io lo debbo far sapere prima che avvenga il problema e se veramente non è nulla questo coronavirus e allora ci stanno in Italia tantissimi di questi morti anziani e allora forse l'Inps se li voleva togliere di torno in modo da pagare meno la pensione a tutti quanti questo è il dilemma questo è quello che bisognerebbe riflettere prima di parlare e di dire determinate cose la rivoluzione non si deve fare con sobbillando le persone nel momento in cui si ha maggiormente paura e si hanno dei dubbi la rivoluzione la si deve fare o prima o dopo che tutto terminato ma deve essere una rivoluzione d'amore di qualcosa di concreto di qualcosa fatto per il bene di tutti non perché io devo dimostrare di essere il più bravo questo è quello che io sento poi vi torno a ripetere è un mio sentire daniela persico abita a portici provincia di napoli per adesso nessun caso mi dispiace solo che alcune persone non rispettano le regole sono state delle multe e stiamo a casa finisce tutto prima ma ma non tutti ragionano da altruisti ma da egoisti sì daniela esattamente adele cosa pensi del sistema di credenze cioè di regole e dogmi severi che scoraggiano il pensiero indipendente originario se il virus come sostengono la commission è un sistema di credenze che deve essere abbattuto cosa consigli fare io da un paio di giorni faccio il processo di liberazione con l'arcangelo Michele allora questa è una bellissima domanda Lidia allora cosa penso delle credenze io non 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 mi piacciono le credenze come mio carattere sono al di fuori dei dogmi e delle regole è proprio una mia natura natura libera che ho e e quindi ho un pensiero mio indipendente proprio fatto da bambina da ragazzina e tanto è vero che la per per una religione cattolica così aderente come molti lo sono io non lo sono mai stata ho già altre volte detto che quello che era il più credente di tutti quanti noi in famiglia era mio figlio Marco ma era un non lo so cosa credeva esattamente e come lui credesse perché era un ragazzo di 12 anni e mezzo 13 anni però lui era molto osservante e spesso e volentieri già in questo periodo lui si preparava a tutte le varie fasi che poi porta alla Pasqua infatti noi lo chiamavamo il prete di casa lo prendevamo quasi in giro però aveva anche dentro di sé un senso io lo percepivo un senso suo di libertà interiore e questa libertà interiore io l'ho compresa negli ultimi giorni nell'ultimo periodo prima che lui se ne andasse eravamo andati sembra che già l'ho raccontato eravamo andati in chiesa perché lui voleva sempre andare in chiesa però quella volta eravamo andati in chiesa per il periodo dell'immacolato proprio il giorno dell'immacolato il giorno prima non mi ricordo e io lo vedi mettersi seduto con un suo compagno negli ultimi banchi e non prestare molta attenzione a tutto quello che si faceva forse in quel ultimo suo saluto che mi voleva dare era quello di di continuare con la mia libertà interiore verso le credenze e i dogmi cattolici quindi io torno a rivedere sono sempre stata molto molto libera questa è la prima domanda che tu mi hai fatto se il virus come semmo sia un sistema di credenze che deve essere abbattuto questo non l'ho capito che cosa significa il virus un sistema di credenze il virus c'è non è una credenza o sia un virus a stato influenzale o sia un virus come molti altri dicono ma è esiste c'è la credenza è un qualcosa che tu ti formi nella tua mente e i morti ci sono le bare ci sono a meno che non li hanno vanno a casa e li uccidono e poi li mettono nelle bare per far credere che sono morti io posso dire che non è non si può dire una credenza la credenza è tutt'altro è qualcosa di immaginario che si crede senza nessuna condizione non è che esista realmente va bene se poi vogliamo dire che sia un un modo come un altro affinché la l'umanità prenda coscienza di se stessa ebbene può essere che sia questo io non te lo so dire poi se tu fai il processo di liberazione con l'arcangelo Michele ben venga fanno ogni cosa che fa bene e ti fa stare serena tu la devi fare liberamente nessuno può dire a un altro cosa fare e poi l'arcangelo Michele è proprio l'arcangelo che ci porta a trovare a ritrovare noi stessi a sentire il divino dentro di noi lui taglia i ponti con tutte le varie appunto credenze e non verità interiori ciao ciao cira un bacione Nadia fiera avanti il dubbio dipende se fa bene o no se hai utilizzato per simulare il proprio sentire fa bene se hai utilizzato per farti aver paura e dovinarti fa male questo è il mio pensiero ma di per sé non è maligno no scusatemi un attimo pronto pronto eh Melania io sto facendo una diretta gli devi dire qualcosa ah tra quanto tempo si dite no e penso eh fra le 4 4 e un quarto va bene va bene va bene ok scusate scusate volevo non so che cosa sia successo ecco allora volevo dire questo semplicemente che il dubbio è una cosa bellissima Nadia come tu stai dicendo perché il dubbio dal dubbio tu fai le tue riflessioni e stimoli il tuo sentire o a far bene o a far male e quindi però il dubbio se domina se ti porta verso un qualcosa a cui non sai rispondere a cui non hai una valida risposta e allora ti fa del male poi io non userei il termine maligno io userei il termine non buono per essere buono deve darti lo spunto per crescere per capire te stessa dal dubbio tu dici nasce la paura ma anche una nuova visione no se tu ti fai vincere dalla paura non hai una nuova visione hai una visione ristretta ma se tu sei capace di vincere la paura allora hai una visione allargata quindi cara Nadia dipende dal tuo sentire se il tuo sentire è un sentire capace di superare la paura allora tu hai una visione allargata ma se tu hai un sentire che non è capace di superare la paura ma si fa vincere dalla paura e allora mi dispiace sei perso vera di rosa questo virus è suddolo ieri mio marito aveva la febbre il mio primo pensiero è stato per il virus poi sono detto basta abbandonarti addio agli angeli sì positive siamo anzianotti io e mio marito e da bene qualcun altro ma il mio pensiero va a Bergamo cuore si è stretto per l'angoscia vedere i camion pieni di libare questo virus ci insegna a voler più bene e ci accomuna nel dolore vera non devi impaurirti la prima cosa è proprio questo il ritardo ma un saluto alla mia amica Adele grazie Anna Maria tu sei sempre presente nel mio cuore Daniela Persico assolutamente il virus c'è purtroppo si propaga velocemente quando si comporta con i peri ricoveri non si può fare assistenza a tutti come si questa causa aggramarsi della malattia e non poter intervenire come si dovrebbe sì ma se loro conoscevano prima perché non sono intervenuti prima Iris Adele i dubbi sono umani gli esseri superiori non ne hanno abbiamo molta strada da fare grazie per la tua pazienza Iris io non sto dicendo che non ho dubbi io sto dicendo che ho i miei dubbi sempre e comunque e però sono i miei dubbi non quelli che mi vengono instillati dagli altri i dubbi miei io lo so come li posso comprendere e superare quelli degli altri no perché sono dubbi che mi mettono gli altri e questo non va bene noi dobbiamo essere operatori di luce non di buio questo è il punto sì chi lavora nella spiritualità come molti dicono che lavorano nella spiritualità almeno devono avere la coscienza di propagare la luce e non il buio questo è quello che io dico discernimento e rigidità chi lavora nella luce è costretto giorno per giorno a fare discernimento e rigidità su se stesso ma non quella rigidità che significa che non vai oltre resti fermo ancorato a determinate idee rigidità significa essere fermo al tuo essere divino devi essere ancorato al tuo essere divino per poter propagare la luce altrimenti non dai il buon esempio e non propaghi la luce quindi torna a ripetere se sei operatore di luce devi saper dosare ciò che vai dicendo per il bene di tutti il tuo e quello degli altri Daniela Persico c'è stata sicuramente una falla nei controlli in ospedale l'errore secondo me è stato quello di informare prima i cittadini su come comportarsi appena si avvertivano i sindi cioè allora Daniela io l'argomento è proprio questo io non voglio puntare il dito sugli errori io voglio che insieme noi ci mettiamo e ragioniamo sull'oggi adesso come rinascere come essere nuovi a questa evenienza che è avvenuta da questa evenienza noi usciremo ma noi dobbiamo uscire nuovi non rancorosi o pensando l'ospedale non ha detto non siamo stati avvisati a tempo non abbiamo oramai è successo e quindi il recriminare non serve a nulla in questo momento tiziana dall'oltre cosa ci dicono dall'oltre ci dicono quello che io ti ho letto prima se vuoi te lo rileggo di nuovo allora bisogna invece creare nei cuori le basi per un nuovo credo che ha come unico scopo di unificare tutte le persone di essere capaci di vivere per vivere di affrontare la morte senza paura di vincere gli ostacoli sapendo che tutto è possibile se si agisce per il bene di tutti insomma cercare di portare più persone con la coscienza viva verso una realtà dove si possa essere parte attive di un mondo fatto per creare e non per distruggere questo è quello che loro dicono tiziana tiziana sei arrivata in ritardo e io ti ho riletto quello che ho detto prima il mio ragionamento era sul fatto che tutti noi dobbiamo iniziare a fare un processo di rinnovamento ma questo processo di rinnovamento ciao salvatrice questo processo di rinnovamento non lo possiamo fare mettendoci ed ergendoci da giudice oppure recriminando questo processo di rinnovamento lo possiamo fare sempre guardandoci noi per primi io cosa ho fatto finora io sono stata una persona che quando è dovuta adesso ve la passo in politica la cosa forse mi capite meglio anche se a me non piace questo ma per farvi capire io quando sono andata a votare sono stata una persona che ho ragionato che ho fatto bene i calcoli disinteressatamente ho pensato al mio bene e non al bene di tutti ho valutato bene la persona che io decidevo ad andare in mia vece a fare le leggi per governare me cittadina comune questo io devo fare questo è il mio primo passo io medico ho operato fino ad oggi per il bene di tutti oppure ho pensato a fare grande il mio nome affinché potessi chiedere più soldi io casalinga che so in casa ho cucinato per amore con amore ho capito la persona che avevo a fianco oppure ho subito tutto senza capire il perché savo lì e che importanza io avevo in quella famiglia questo è quello che ognuno deve fare è una cosa difficilissima non semplice da attuare non è facile cambiare le nostre abitudini non è facile giudicare in modo onesto noi stessi ma giudicare non significa che io mi debbo condannare giudicare significa che io devo fare le mie osservazioni su me stessa e osservandomi io è come se passassi una livella dentro di me e equilibro tutta me stessa mi equilibro sono io sono capace di fare questo non sono capace di fare quest'altro però mi impegnerò a fare bene quello di cui sono capace questo è quello che ci chiedono dal mondo spirituale rinnovamento interiore un rinnovamento fatto piccolo con piccoli passi giorno per giorno e quando andate a chiedere un messaggio un messaggio cercate di ascoltare quel messaggio cercate di capire cosa il vostro caro vi sta dicendo con quelle parole cosa è importante per voi realmente il sentire se domani potrete vincere una borsa di studio o sentirvi dire io ti amo anche se non te l'ho detto mentre ero in vita quando un genitore vi dice queste parole significa che sta comprendendo se stesso di quanto amore avrebbe potuto dare e ricevere da voi ancora di più e allora voi dovreste aprire il vostro cuore quando vi si dicono queste cose e non ribattere no ma mio padre non mi ha mai amato mia mamma non mi ha mai pensato significa che voi non state riflettendo sul messaggio che state avendo voi state solo sentendo quello che a voi piace sentirvi che vi si dica anche sui messaggi dovete rinnovarvi io non dico che dovete accettare tutti i messaggi che vengono dati per certi o per sinceri o per veri il discernimento ci deve sempre essere però l'apertura del cuore ci deve essere anche e non stare a sentire i nostri bisogni ma i bisogni dell'amato caro che ci viene incontro perché anche loro hanno bisogno di noi anche loro hanno bisogno di sentire che voi li amate sinceramente senza senza nessun pregiudizio senza volerli trattenere accanto a voi ma con la libertà che dà l'amore solo vero incondizionato questo è rinnovamento questo è portare una nuova umanità verso una energia più pura adesso vediamo un pochettino tiziana caro certo bisogna dare l'esempio e cercare fare il proprio meglio per il bene comune non serve giudicare e condannare esatto cira è giusto se abbiamo sempre atteggiamento giudito verso come i passati ci allontanano dall'essere centrati adesso bisogna centrati assumere la responsabilità di capire che il mondo migliorerà e siamo se miglioreremo noi sì cira sei un'ottima canalatrice canalizzi proprio bene e io ti ringrazio per questo aiuto che mi dai in questi momenti Romina dice grazie Carmela dice brava io dico brava a voi che mi state ascoltando e che mi dovete dire se siete state in buona compagnia con me scusate io avrei dovuto e avrei voluto farvi sentire la gioia dei vostri cari e allora proprio per questo io vorrei che voi chiudeste per un momento gli occhi vi metteste in una posizione di conforto di rilassamento perché abbiamo parlato troppo abbiamo detto troppe cose in tavola e ora c'è il momento di fare un punto della situazione dentro ognuno di voi di sentire dentro di voi i vostri cari tutti quelli che siete rimasti ad ascoltarmi perché ce l'avete fatta a sopportarmi in questo mio sfogo interiore appoggiatevi bene e cominciate a rilassare la vostra testa rilassate i vostri occhi i vostri muscoli del viso e incominciate a far attenzione al respiro ispirate ed espirate il respiro deve essere calmo sereno nel momento che ispirate sentite l'aria fresca che entra dentro di voi sentite che scende giù fino ad arrivare ai vostri polmoni siete voi che adesso state aprendo tutti i vostri polmoni per fare entrare quest'aria fresca limpida e espirate e mandate via tutte le preoccupazioni tutte le idee che abbiamo detto finora non ci servono più adesso ci serve è continuare a sentire dentro di noi l'aria fresca che entra e che ci pulisce e che toglie tutte le scorie tutti i pensieri più pesanti ispirate ispirate ed espirate ispirate ed espirate quando i ginocchi i ginocchi le gambe i piedi ben piantati a terra siete uniti alla madre eterna scaricate tutto nella madre eterna che tutto accoglie e rinnova e vi rimanda su tutta energia pulita rinnovata cercate di visualizzare un bel colore verde all'altezza del vostro petto e vedete che mano mano questo colore gira gira come una girandola e si apre sempre di più davanti a voi ora vi sentite come su di una nuvola vi sentite leggera vi sentite leggeri state apprezzando che tutto intorno a voi è luce da questa luce ecco che escono verso di voi delle figure luminose vengono incontro a voi vi stanno abbracciando ascoltate cosa hanno da dire sono contenti di incontrarvi lasciatevi abbracciare vi stanno dando un messaggio ascoltatelo e conservatelo dentro di voi dentro al vostro cuore non è la vostra fantasia ma siete davvero con chi vi ama ora vi stanno dando la pace interiore e la guarigione da ogni timore vengono o la matri o la o la e la Tutto è lì, in quell'istante che state vivendo, ed è un istante infinito. Siete dove non c'è notte e non c'è giorno, ma luce piena. Non è un sogno, è una realtà, perché l'amore è qui ora con voi. Ora è tempo di ritornare. Vi stanno salutando e voi non dovete piangere, ma conservare dentro di voi l'amore che vi hanno donato. Piano piano, fate di nuovo attenzione al vostro respiro. Inspiro ed espiro. Tutto è dorato e voi state bene. Inspiro ed espiro. E cominciate a muovere le mani e ad aprire i vostri occhi. Mi scuso con voi se è stato breve, però spero che vi abbia aiutato. Dopo una conversazione un po' troppo materiale, volevo farvi sentire un po' di spiritualità. Fatemi, datemi le risposte, se siete riusciti a fare questa piccola meditazione. Fatemi sapere, anche perché non so se dopo di me c'è qualcuno. Lidia, grazie, dolcissima meditazione. Patrizia, bellissimo, davvero peccato che era breve. Sì, mi è dispiaciuto. Un'altra volta la facciamo più lunga. Sabato vi prometto di fare molta più meditazione che di parole. Siete riusciti a incontrare qualcuno? Fatemelo sapere se ci siete riusciti. Cinzia, c'è riuscita? Bene, mi fa piacere. Jessica, ciao Caradele, ti sei corregata ora, mi dispiace. Jessica, Giuliana Ricaldi, grazie mille. Ci sei riuscita? Carmela, tu hai pianto? Il pianto è bene, il pianto porta liberazione. Vera, tanta tanta serenità. Benissimo, non sei riuscita a vedere nessuno. Cira, sì, sei riuscita. Meno male, sono contenta. Ero un po' preoccupata perché pensavo che stavo prendendo del tempo a qualche di un altro. Cinzia, il tuo papà? Benissimo. Lidia, tua nonna. Bene. Jessica, peccato, sarà per la prossima volta. Io adesso chiudo, ma voi continuate a scrivermi per farmi sapere se siete riusciti a vedere qualcosa. Non ho visto nessuno, ma mi sono rilassata. Bene, Angeloni. Giuliana Narti, sì, grazie. Io lascio spazio agli altri se c'è qualche di un altro e mi scuso con Gaetano, qualche di un altro, se sono andata fuori tempo. Io, Patrizia e Etiano, mi sono sentita a volte in un abbraccio di amore e non volevo più tornare. Ti riascolto dopo, va bene, Jessica. Ok. Un bacio a tutti voi e grazie per avermi ascoltato. Grazie a Della è stato molto intenso, ho avuto i miei cari felici e mi hanno detto qualcosa, e mi hanno detto qualcosa, tanta pace e gioia. Solo figure luminose, bellissimo. Più di tutto questo. Figure luminose, sono gli angeli. Anche io, appena collegata, appena entrata in gruppo, grazie infinite, grazie a te. Vi saluto tutti, un bacione e continuate a scrivermi così io vi posso rispondere.